Allearsi con i laboratori o sostenere Mimo Gonzales come candidato sindaco o andare da soli. Questi due percorsi che in queste ore saranno valutati sul tavolo di Alleanza per Brindisi. Il progetto politico che vede insieme Movimento Regione Salento e altre due liste civiche a sostegno di Antonio Giunta. Ma lo stesso Giunta lo aveva premesso durante la sua ufficializzazione. Per allargare il progetto politico potrà anche fare un passo indietro dando spazio ad un altro candidato. E su questo si discuterà in una riunione fissata però già alle 18. Alla stessa ora in cui Gonzales presenterà il suo programma alla cittadinanza. Abbiamo convocato un incontro, spiega Giunta, ci confronteremo e valuteremo le proposte. Davanti a noi la possibilità di continuare la strada in solitario oppure a sostegno di Gonzales. Seduto al tavolo di APB anche Giampiero Pennetta, ex PDL o meglio ex Presidente del Consiglio Comunale che ha aderito ad APB. Pennetta si stacca così del tutto dal centrodestra che lo ha visto come alleato nelle ultime amministrative e lui vecchio Udc. Così per APB tramonta l'ipotesi centrodestra. Se non dovessero andare da soli con Giunta sicuramente non con Mauro Dattis. Ormai è solo questione di ore e poi il quadro sarà meglio delineato.